Alimentazione e cuore. L'alimentazione di cui vi occupo da tempo per comprendere il ruolo importante che ha sull'apparato cardiovascolare, ma non solo, spesso ci dimentichiamo che il nostro corpo ha una capacità ricettiva notevole. Ce ne dimentichiamo e questo diminuisce la consapevolezza di quello che stiamo assumendo. Per aiutare le persone, aiutare tutti voi e tutti noi a comprendere qual è la capacità ricettiva del vostro corpo, vi farò un esempio pratico. Guardiamo insieme. Questo che vedete qui sono circa 3 mg, 2 o 3 mg di una molecola, sostanzialmente un cortisonico, che è in grado di, pensate un po', aumentare la broncodilatazione, favorire il battito cardiaco, insomma una serie di eventi tali che possono addirittura procurare un beneficio incredibile. Questo per farvi capire che pochissimi mg di qualcosa, guardate la quantità di questa, la maggior parte delle pastiglie, delle molecole, se voi pensate bene, ha una quantità davvero ridotta, cioè si parla sempre di 1 mg, 2 mg, 3 mg. Quindi in poche parole la capacità ricettiva del nostro corpo, e qui stiamo parlando di pochissimi mg, guardate per farvi la proporzione, ed è una comune pastiglia, una comune pastiglia che però può avere davvero un effetto incredibile sul nostro corpo. Quindi la capacità ricettiva del nostro corpo per pochi mg di una molecola sintetica, di un farmaco, producono un effetto visibile e importante. Mi passa il mal di testa, mi passa il mal di denti, posso liberare i bronchi, salvare una vita con pochissimi mg di una sostanza. Questo perché? Perché il nostro corpo ha una capacità ricettiva incredibile. E con i farmaci, o con le molecole assunte in modo estemporaneo, questa reazione si vede in modo lampante. Guardate adesso che cosa avviene. Questa, dicevo, è una, appunto, una molecola, un farmaco, questo qui, è più o meno la stessa proporzione di 3 g di pane. Ebbene, questa molecola ha la stessa attività sulle cellule di questa, nel modo è più identico, solo che questa dà un potere visibile enorme, questa non dà segno di sé a noi, dà segno di sé sicuramente all'organismo. Ma la stessa ricettività per questa sostanza è identica per questa. questo vuol dire che una pastiglia che fa un effetto, ha un effetto non visibile, uguale e identico di un pezzo di pane di pochi mg. Guardate che cosa avviene all'interno del nostro organismo. La stessa molecola, pane, pastiglia, qualsiasi cosa, insomma anche di pochissimi mg, arriva all'interno del nucleo e va a comunicare qualcosa al DNA. Lo stesso, non c'è differenza, solo che per quanto riguarda la pastiglia e il farmaco, l'evidenza si manifesta. Per quanto riguarda l'alimento, l'evidenza non si manifesta, ma l'azione è esattamente l'identica, identica ed ordina qualcosa al DNA, ordina di fare un'azione. Lo rivediamo perché è davvero incredibile. Ogni molecola di cibo che viene assunto va a comunicare qualcosa, per farvi un esempio eclatante, che so, gli omega 3, come ho già detto altre volte, indicano al DNA di produrre meno acidi grassi e meno trigliceridi, detta davvero in modo molto semplice, però davvero questo è quello che avviene. Per cui questo ci deve far pensare davvero sulla qualità del nostro cibo, sulla consapevolezza del fatto che qualsiasi cosa stiamo assumendo produce un effetto nel nostro corpo, senza ombra di dubbio. Ripeto, con una pastiglia visibile, con una molecola di pane no, di pane o di qualsiasi altro alimento, ma l'effetto è lo stesso. Quindi assumiamo questa consapevolezza quando ci alimentiamo o quando stiamo mangiando tranquillamente, perché ingurgitando o mangiare è diverso da nutrire. Nutrire è una funzione positiva, mangiare vuol dire non rendersi conto di quello che si sta facendo. E questo sull'apparato cardiovascolare ha un ruolo determinante. Non a caso io ho voluto approfondire tutti i miei studi sulla correlazione alimentazione e cuore, perché è quello di cui mi occupo, e ho trovato delle correlazioni incredibili, ma ho trovato anche il meccanismo d'azione per cui una molecola di un qualsiasi cibo ha un'azione su un evento cellulare che poi produce un effetto visibile, quando però magari è, se negativo, troppo tardi. Questo ad esempio è la terosclerosi e l'aumento dell'LDL in circolo, tutte correlate a fattori nutrizionali, allo stile di vita come normalmente si crede. Quindi spero di aver focalizzato in voi l'attenzione in questo, ricordatevi, pochi milligrammi anche di un nutriente qualsiasi hanno comunque e sempre un'azione diretta sulle vostre cellule. Talvolta è spesso non visibile, ma sicuramente ce l'hanno.